La Procura della Repubblica di Marsala su indagini svolte dai carabinieri della locale compagnia ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale nei confronti di quattro persone, tra cui una donna, indagate per vari reati, dallo spaccio di stupefacenti all'indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza, riciclaggio di denaro, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione. La misura cautelare in carcere è stata disposta per Alessio Angileri, 33 anni, per il compagno Andrea Nizza, 36 anni e per Alessio Cristopher Pantaleo, 36 anni, domiciliati nel quartiere popolare di Sappusi, già sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito della cosiddetta operazione Virgilio. Disposto anche il sequestro preventivo di una nota rivendita di tabacchi sita nell'altro quartiere popolare di Amabilina, ritenuta dagli inquirenti vero e proprio bancomat dei pusher, oltre che di mezzi e somme di denaro pari a 50 mila euro. A carico del titolare della tabaccheria sequestrata, un uomo di 32 anni è stata disposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con contestuale interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa. Le indagini hanno preso avvio all'indomani dell'operazione Virgilio che nel febbraio 2023 aveva smantellato la storica piazza di spaccio del quartiere popolare di Sappusi con l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 14 indagati, 11 dei quali destinatari della misura in carcere. Grazie infatti al ritrovamento di appunti contabili relativi all'attività di spaccio sono scattate ulteriori indagini che avrebbero permesso ai carabinieri di ricostruire il metodo usato da alcuni indagati per ottenere il pagamento della droga smerciata, cocaina, crack ed eroina. I consumatori spesso in difficoltà economiche avrebbero acquistato stupefacente a credito lasciando le loro carte del reddito di cittadinanza con relativo PIN nelle mani dei pusher i quali grazie alla messa a disposizione della rivendita di tabacchi di Emabilina avrebbero prelevato mensilmente il contante lasciando una somma pari al 10% dell'importo prelevato al titolare della tabaccheria. Alessio Angileri e Alessio Pantaleo sono altresì indagati per estorsione poiché sempre secondo gli atti di indagine preliminari avrebbero costretto a lasciare l'abitazione mediante la minaccia di incendio gli assegnatari irregolari di un alloggio popolare del quartiere Sappusi. Gli indagati subito dopo si sarebbero impossessati dell'alloggio di proprietà dell'OIACP occupandolo abusivamente. I carabinieri inoltre con l'ausilio della Guardia di Finanza stanno espletando ulteriori accertamenti presso la rivendita di tabacchi sequestrata allo scopo di approfondire aspetti fiscali e verificare tutte le operazioni di prelievo effettuate con le carte del reddito di cittadinanza indebitamente utilizzate dai pusher.